E se io facesse un corso su WordPad, un percorso di due ore facciamo, voi lo apprezzerete? Scrivetemelo nei commenti, sì o no? Rispondete, mi raccomando, mi raccomando, fatelo. Rispondete, poi scrivete anche cosa aggiungere di particolare, soprattutto unico nel mio corso. Scrivetemelo nei commenti, cosa aggiungere di particolare. Vabbè, io vi super ringrazio e vi do un appuntamento alla prossima. Io vi super ringrazio e vi do un appuntamento alla prossima. Grazie.